Vigilia di campionato per le siciliane di Serie C, domani in campo per la diciottesima giornata. Il Catania alle 20.30, Ospitel e Matera di Auteria al Massimino. Viaggianti, Curiale e Russotto hanno appena recuperato, non hanno ovviamente i 90 minuti nelle gambe. Da allora Luca Relli dovrebbe lanciare nella mischia Bucolo e Mazzarani. Di Grazia dovrebbe partire dal primo minuto nell'ambito delle 4-3-3. Una vittoria sarebbe importante perché consentirebbe alla Catania di restare al secondo posto, addirittura di agganciare il Lecce nel caso in cui quest'ultimo perdesse in casa della Paganese. Situazione analoga per il Trapani di scena a Monopoli. I Pugliesi sono reluci da sconfitte in Serie e saranno costretti a giocare il tutto per tutto per riprendersi in classifica. In attacco Calori dovrebbe schierare Murano ed Evacuo. Il Siracusa alle 14.30 ospita la Juve Stabia. Bianco che registra le pecarie condizioni di Turati e Mucciante dovrebbe riproporre il 4-2-3-1. San Domenico potrebbe giocare dal primo minuto mentre in avanti è ballottaggio tra Scardina e Bernardo. La Sicula Leonzio gioca e ne trasferta contro la Regina. Si tratterà dell'esordio in panchina per il nuovo tecnico Diana che non ne potrà schierare lo squalificato Arcidiacono. Qualche assenza di troppo per l'Akragas che a fronte ne trasferta il Fondi, Parigi e Mileto sono squalificati mentre Vicente, Navas, Carrotte e Caternicchia non sono ancora al meglio della condizione in preallarme Pisani e Saita.